Perché hai scelto Teramo? Perché penso sia una piazza dove i giovani possono far bene e io vengo qui con il consapevole che posso sicuramente esprimere il mio gioco e dare il massimo per questa moda. Sono un centrocampista, provo ad essere di qualità e quantità, posso fare la mezzana a sinistra e anche se da piccolo in passato ho anche ricoperto altri ruoli come l'esterno d'attacco o anche un centrocampista esterno. Conosco Christian Ventola che l'anno scorso era con me a Macerata dove abbiamo fatto un ottimo campionato e poi il mio compaesano è Carlo Ilari che appunto è di Ascoli e lo conosco molto bene. Cosa ti senti dire invece della tua nuova tifuseria? Io li saluto molto volentieri e cerchiamo di fare bene quest'anno. Grazie a tutti.